Il Comune di Pesaro ha consegnato questa mattina la benemerenza di plauso della città per meriti sportivi agli atleti paralimpici Anna Maria Mencoboni e Alessandro Ragni delle società pesaresi future Filosport. Il sindaco Biancani e l'assessora Mila Della Dora hanno premiato i due paratleti che hanno scritto una pagina importante della storia del pentatron moderno italiano, partecipando ai primi campionati europei para laser run e triatel svolti Samadera in questo mese di luglio. Una kermesse portoghese che ha premiato le performance di Ragni con due ori e quella di Mencoboni con un argento ottenuti grazie al contributo degli atleti guida Nicola Sozzi, Alex Torcasio e Michele Totaro. Alla consegna delle benemerenze in comune anche il presidente della federazione di pentatron moderno Fabrizio Bittner che a sua volta ha applaudito la realtà pesarese in cui è nato il movimento del parapentatron. Una prima sperimentazione durante i campionati italiani giovanili e quest'anno è stato fatto un passaggio a livello internazionale. I due atleti però sono della città di Pesaro, quindi praticamente è una primogenia della città di Pesaro sicuramente. Perché la federazione non aveva un settore rivolto e diversamente abili, adesso ce l'ha, è convenzionata come il comitato italiano parolimpico per avere un riconoscimento ufficiale della disciplina perché diventi parolimpica vera e propria bisogna attendere a livello internazionale che la stessa sia riconosciuta dal comitato italiano parolimpico, quindi che diventi disciplina parolimpica come lo è oggi olimpica e poi si può pensare a un'organizzazione di movimento su scala nazionale. Però stiamo già partendo in Italia in realtà a fare diversi poli per stimolare la partecipazione e l'adesione a questa attività che per ora è di laser run, ovvero corri e spara e in futuro si potrebbe aprire alle discipline almeno del nuoto sicuramente e della scherma che esistono già nelle paralimpiadi.